A Batu Tölze e a Benedict Boyern si tiene ogni anno la Leonard Fart, una fantastica processione dedicata a San Leonardo da Limoges, la cui intercessione viene invocata per le malattie del bestiame e la grandine. Questo filmato dà solo un'idea di questa grande festa di popolo, che per essere pienamente apprezzata deve essere vissuta di persona. A Batu Tölze e a Benedicto A Batu Tölze e a Benedicto A Batu Tölze e a Benedicto A Beatrice A Beatrice Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.